La sportella è aperta a tutti, ovvero sia cittadini che anche però magari amministratori di condominio o tecnici che ne vogliono sapere di più. Si offre sul territorio come un punto informativo dove chiedere informazioni di vario genere su quello che riguarda efficienza energetica, energie rinnovabili, materiali naturali o bioarchitettura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.